e ti saluto con la pace del signore buongiorno buon giovedì 25 luglio 2024 vuoi sapere una cosa anzi vuoi che ti lancio un invito sorridi che gesù ti ama 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 perché questa è una grandissima verità che tu ci creda oppure no gloria a dio vogliamo ascoltare anche oggi la parola di gesù cristo che viene rivolta ai nostri cuori in questi termini dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna questo testo lo puoi trovare nel vangelo di giovanni capitolo 3 versetto 16 e il titolo di questa meditazione biblica è questo dio ama tutti gli uomini e per uomini si intende uomo e donna avete notato l'ordine delle parole in questa lode che troviamo nell'apocalisse a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue apocalisse capitolo 1 verso 5 ci sembra perfettamente logico che dio abbia potuto salvarci e poi amarci invece l'amore divino precede la sua azione salvifica prima ci ha amati e poi ci ha salvati il che sfida la nostra umana capacità di comprensione pensate forse che dio ci ama e soltanto se facciamo qualcosa per essere amati oppure se dimostriamo di amarlo no egli ci ama tutti incondizionatamente buoni o cattivi che siamo senza aspettarsi nulla da parte nostra ora l'idea che dio possa non amarci origina spesso da un certo tipo di insegnamento dio mi ama soltanto quando sono saggio ma questo non è l'insegnamento della bibbia d'altronde le colpe dei figli non cambiano minimamente l'amore perché i genitori hanno per loro ciò vale a maggior ragione per dio che ci ha creati ora è vero che gli uomini si sono allontanati da dio ma questo non significa che egli non li ami dio odia il peccato non la sua creatura abbiamo difficoltà a comprendere questa posizione se non facciamo una netta distinzione fra il peccato e il peccatore dio detesta il peccato perché oltre a rovinare la nostra vita offende la sua santità e calpesta la sua gloria ma dio ama il peccatore infatti dice così la scrittura che dio mostra il proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori cristo è morto per noi dio ha mandato gesù a morire a causa dei peccati commessi dal mondo intero caro ascoltatore tu fai parte del mondo cioè dell'insieme degli uomini che dio ha tanto amato ora questo amore divino che è stato manifestato alla croce di cristo e dunque anche per te dio salva ma non tutti dio salva chi crede in lui questo è l'invito che dio ci porta è vero che lui ama tutti ma non per questo tutti andremo in paradiso perché dio è amore e ama tutti ma dio è anche un dio di giustizia e se lui ha detto chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato chi non avrà creduto sarà condannato questa è la giustizia di dio lui dice io ti amo io farei di tutto per poterti abbracciare darti il mio amore benedirti avere relazione con te ma se tu non credi sarai condannato al contrario se tu credi riceverai questo amore di dio in una maniera speciale inizierà una vera e propria relazione con dio e questo farà la differenza oggi e per l'eternità che sia ben chiaro questo concetto dio ti ama dio ama tutti ma dio vuole ravvedimento dio vuole conversione dio vuole che relazioni a ci relazioniamo con lui con un cuore sincero giornalmente non quando abbiamo bisogno giornalmente e per qualsiasi cosa quindi l'invito è ancora aperto credi nel signore gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia dio ti benedica l'invito è ancora aperto